Benvenuti a Sanremo! Sanremo è molto famosa per il mare, per il clima e per i fiori della riviera. Volevo ringraziare Ocemi Siotte per avermi invitato sul Lagoon 55. È il nostro piacere, oggi siamo lieti di avere a bordo amici e una famiglia di 4 persone che vivranno un'esperienza unica a bordo di questo catamaran a vela. Ci racconta i piatti del giorno Chef? Oggi proponiamo una trofia al pesto ligure, piatto molto tradizionale e dei gamberi di Sanremo locali con un'insalatina di fiori eduli della nostra zona. Le Baleari Allora sicuramente la stabilità data dal Lagoon 55 è incredibile perché è una barca molto ampia, molto larga e permette di praticamente volare sull'acqua e inoltre l'elettronica presente a bordo è assolutamente confortevole per quanto riguarda il tipo di navigazione ed ha una mano grandissima per governare e guidare questa barca. Svegliarsi al mattino guardando il mare con questa nuova configurazione delle camere e del letto è fantastico e poi continuare con una colazione nel pozzetto, veleggiare al mare aperto e poi prendere il sole, bella tranquilla. Mi piace molto perché è stato molto ben studiato ed è molto confortevole e molto pratico quindi è veramente un'ottima soluzione. Il Tenderlift Essendo io amante della navigazione a vela direi il Flybridge Lusheslong Divano Prendere il sole a pelo d'acqua è poi un bel tuffo in mare. Per me è migliore la Lars version perché dà proprio la possibilità di godersi ampiamente il pozzetto. Sicuramente anche solo salire è stato bellissimo e la parte più bella penso si è stata aprire le vele. Confortevole Elegante Sicuramente performante Emozionante Molto Emozionante